Ciao ragazzi, questa sera, in onore della serata di Halloween, ci troviamo alla Chiesa Blu. Con noi stasera ci sono due ospiti, Fabio e Barbara, che saranno con noi per l'intera indagine. Andiamo! Se ci sei, puoi venire qua vicino a noi? Io non so dove sono le posizioni a tre video. Vabbè, a voi non lo faccio vedere. Potete venire e dire, se c'è qualcuno di qualcuno, si può avvicinare a noi? Potete parlare di un segnale. Oppure potete avvicinarvi a questo oggetto, non vi fa del male. Con la luce rossa. E potete parlarci anche con questo. C***o è stato. Potete parlarci anche con questo. C***o. Ti ho sentito. Noi non siamo qui per farvi del male, assolutamente. Siamo qua per ascoltarvi, per sentire la vostra storia e quello che vorrete raccontarci. Provate ad avvicinarvi a noi, a questi strumenti, a quello che ho in mano e farlo brillare. Ci serve per capire che siete qui. C***o. C***o. Purtroppo uccide questo. Puoi dire quando vuoi? E farti sentire in qualche modo? Purtroppo uccide questo. Purtroppo uccide perché non vi aggiamo. Purtroppo uccide questo. qua, se ci può raggiungere per favore ma non sentite dei lamenti? sì però non riesco a capire cosa? allora se c'è qualche entità con noi qua vicino soprattutto una ragazza che è stata violentata qualcosa c'è anche interessante sì puoi darci un segno noi siamo qua non per farti del male ma per ascoltarti per capire e dimostrare cosa è successo e cosa ti è successo e magari riusciti anche a far andare in pace è questo per voi se vuoi andare in pace mi puoi far lampeggiare rispondermi con questo oggetto o con l'album che fa le luci ti puoi avvicinare a noi e risponderci con questi oggetti che ci sono sull'altare la mia sensazione è che c'è qualcuno ma ha quasi timore ad avvicinarsi no 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 non c'è un negativo almeno io adesso sono negativo no è che ha timore mio ma facciamo due o due con la storia volete già provare con la storia ti puoi avvicinare a me per favore se sei la stessa che ci seguivi oggi quando mi hai fatto il giro se sei la persona che si è avvicinata a me puoi farlo di nuovo avvicinandoti venendovi da parte per piacere con questo io posso capire se tu ci sei ti devi solamente avvicinare non fa nulla di male io sento attacchiamo la cassa ma sicuramente lo so ma si starete anche bene provi di tardi quello che si come fa non fa nulla spero un po' che ci si solte allora se ci fate un giro che fa amore potete parlare di questo oggetto c'è qualche titacco con noi c'è qualche titacco con noi mi puoi dire che sei attraverso quello strumento che fa amore non fa pulco cane come vuoi dire come vuoi dire io sono Grace potete parlare in questa radio che fa amore con noi c'è qualcuno mi puoi dire chi sei? c'è una donna a parte di noi a parte di noi a parte di noi passano passano che è una porta vieni a pagare su di noi passano a parte allo strumento con la vicerezza per favore si è fermata si è fermata ecco la grazie mille sei una donna? se c'è una donna fammi eliminare uno degli strumenti sei un uomo? volevo sapere se in questo luogo c'è una donna che è stata uccisa nelle stanze qualicine morta morta mi puoi dire il tuo nome per piacere io ho capito una cosa per caso vi dici se ho capito bene il tuo nome era Giulia Giulia però non l'ha detto il tuo nome è Giulia se se si ma in quanti si ma in che se ti posso 5 quante persone siete qua con noi qua sotto c'è qualche entità idite 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 mi dite un nome delle persone che ci sono qua con noi entità che cosa hanno fatto blocca ancora perché e appena letto blocca prenderà la camera niente vuoi farmi un'altra se si mette da qua sei nella cripta e non mi dico che posso farci soltamente ci sono diversi per virgolette lo so che si chiamano diversi porti diversi porti e dai video che non ho visto ma non ho ancora mai sapere tu hai di foto che tra quattro persone vai rossa continui noi vogliamo scendere possiamo scendere? nella cripta? mi chiamano? andiamo giù perché ce l'ho imbattito c'è un mezzo di no io ti amo io stesso venite con me ma è grande si ma guarda un buco c'è qualcuno qua con noi? questa è la cripta ragazzi minchia che anima lacci che ci sono mi hanno spaccato su tutto piange Maria se c'è qualcuno qualche identità qua che è stata messa qua sotto potete parlarci con quell'oggetto che c'è di sopra che fa rumore brutta che schifo che schifo ma cosa? ma cosa che schifo? questo questo sai cos'è? sono perso di baracca questo si questa tutta l'ho buttata giù quelli che ha portato le sangue da qua poveracca poveracca c'è un po' di morto qua dentro praticamente tutte quelle latte latte io chiamo latte ma non so latte erano tutte le cose che contenevano le ossa che schifo che schifo la donna è stata comunque legata legata ma la cantina è speculare a questo punto? no 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 vabbè portali a detto allora non so volete che andiamo da basso in cantina? sotto andiamo giù andiamo giù ecco qua è il luogo dove vedi mi fa vedere un po' di qua 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 io sento che c'è qualcosa ok questo è proprio un rituale questo è la quadra la quadra la quadra la quadra la quadra l'abbiamo fatto tradurre questo praticamente sono più rituali scherzi insieme ma in modo sbagliato sia la casaccia sono evidenti esatto hanno voluto provare rituali c'è una porta dove passiamo davanti che si illumina di brutto non riesco a capire perché adesso non c'è più niente non riesco a capire non riesco a capire sono più di brutto ma sono più di brutto sono più di brutto non riesco a capire Grazie a tutti